Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo face-to-face di Simpli Beats, in questo caso a distanza, e abbiamo con noi Carlo Chedini, presidente del Consiglio di Amministrazione Piumu di Casa. Buongiorno Carlo. Buongiorno Flavio, buongiorno a tutti. Carlo, siamo ormai in chiusura d'anno, è il momento un po' di fare i bilanci di chiusura, appunto. Ci vuoi raccontare un po' com'è andato questo 2023 a livello di produzione, di fatturato? Bene, bene, sì, volentieri. Allora, sicuramente è stato un anno un po' atipico, nel senso che normalmente ogni anno è caratterizzato da un'unica direzione che prende un pochino tutto il sistema che coinvolge i mediatori creditizi, che come noi principalmente si occupano di mutui. Si può dire che invece quest'anno abbiamo avuto dei cambi di velocità un pochino più repentini rispetto al solito. Sicuramente è stato un anno molto particolare, appunto, dove abbiamo visto crescere i tassi, quelli di riferimento delle banche centrali, che hanno avuto una fortissima esposizione mediatica e questa cosa ha sicuramente impattato su quello che poteva essere l'appetito all'acquisto e al sottoscrivere un mutuo da parte dei consumatori. Abbiamo visto pian piano scendere questo appetito. Noi abbiamo un partner immobiliare, il gruppo Tempo Casa, che ci permette di condividere una serie di informazioni e abbiamo visto piano piano durante l'anno diminuire quelli che erano il numero di clienti che per acquisto di un immobile andavano a sottoscrivere un mutuo. È un po' sparito quello che era il cliente che faceva il cambio casa, sostanzialmente aveva già un immobile con un mutuo fatto precedentemente, ricordo gli ultimi dieci anni l'abbiamo fatto con costi del denaro praticamente azzerato sostanzialmente, quindi con tassi veramente irrisori e dunque questi che si trovavano ad avere l'esigenza di cambiare l'immobile si trovavano magari a risottoscrivere un mutuo medesimo per l'importo erogato, però con dei costi in proiezione per i prossimi 20-25 anni molto superiori, e addirittura del 30-40-50% in più, e quindi questa cosa ha fatto un po' sparire quel tipo di clientela. È rimasta comunque una buona, una riduzione diciamo, secondo noi stimate intorno al 20% di quelli che possiamo definire i nostri normali prospect, giusto per fare un pochino più tecnico, ecco. In tutto questo noi abbiamo avuto sicuramente anche la necessità di un cambio completo di quello che poteva essere la nostra strategia commerciale e di quella che poteva essere la consulenza che viene offerta poi a questi clienti, perché ovviamente le esigenze sono mutate in un modo sostanziale. Siamo passati da anni passati dove, questo essendo comunque una rete più mutui casa che nasce dieci anni fa sostanzialmente, è una rete addestrata a vendere un po' il prodotto migliore sul mercato, insomma. Oggi invece è molto, è necessario poter dare una consulenza al cliente che comprende molto bene le sue esigenze e riesce a individuare quella che è la soluzione che più in questo momento può soddisfare l'esigenza manifestata. Soprattutto anche perché abbiamo assistito all'altra parte che poi è l'offerta al sistema bancario che ha, diciamo così, ha reagito a questi cambi di mercato, a queste necessità di investimento per gli impieghi in modo molto diverso. C'è chi ha fatto delle campagne assolutamente molto aggressive e chi invece è rimasto un pochino più sulla difensiva, qualche prodotto è stato sostituito, qualche prodotto è stato sostanzialmente tolto, qualche prodotto è stato assolutamente nuovo e quindi questa confusione in qualche modo ha creato la necessità di avere i consulizi più preparati, molto più strutturati nel modo di lavorare e dove il lavoro comincia, diciamo, da una profondissima analisi di quelle che sono le esigenze del cliente finale. Ecco, in tutto questo noi abbiamo concluso l'anno comunque sia con due effetti. Il primo effetto è che siamo riusciti comunque sia, riusciremo largo circa adesso con qualche unità in più o qualche unità in meno su veramente qualche migliaia di operazioni a fare più o meno gli stessi numeri di mutui che abbiamo sottoscritto l'anno precedente. Quindi forse è un meno 2%, più 2%, adesso vedremo come andrà a dicembre che può essere assolutamente determinante a questo punto di vista. Quello che è sceso sicuramente è il ticket medio del mutuo. C'è stata una riduzione di quello che è importo medio erogato e questo ha portato ad avere un erogato che sarà leggermente inferiore rispetto all'anno precedente. Probabilmente anche tra il 7 e il 10% capiremo poi con la volata di dicembre come si conclude. Dato però positivo è che questa necessità di consulenza è riuscita a essere complice a qualche accordo bancario in più che abbiamo fatto. Quindi abbiamo ridotto un pochino il fuori convenzione, che comunque non era un numero esagerato ma sicuramente è una cosa su cui i nostri manager che si occupano di questa divisione hanno lavorato fortemente quest'anno. Dall'altra parte questa consulenza che è un pochino più profonda data al cliente ha originato una marginalità superiore. Quindi questa cosa ci permette comunque sia di chiudere l'anno molto probabilmente con un fatturato molto simile a quello dell'anno precedente con un risultato probabilmente che è molto simile a quello precedente. Quindi cosa dire, di fronte a un mercato che sui giornali leggiamo ha accreditato di un calo del 30-40% perché poi ci sono diverse fonti che danno in forza, lo capiremo poi alla fine a consuntivo probabilmente a giugno dell'anno prossimo come è andato il 2023 nella realtà. Di fronte a un mercato che perde il 30-40% noi chiudiamo l'anno probabilmente con una fatturata e un conto economico molto simile a quello dell'anno precedente e quindi questo è un motivo di grandissima soddisfazione da parte del gruppo, chiaramente, della nostra proprietà, del gruppo Tempo Casa e soprattutto, insomma, questo è dovuto, è doveroso ringraziare ogni singolo collaboratore, manager, coordinatrice, ogni membro del nostro staff perché è stato un anno in cui abbiamo più che fatto un grande lavoro di, diciamo così, di nuove idee, diciamo, di tutto questo operativo è stato un anno dove la resilienza è stata la parola d'ordine perché, insomma, con tutto quello che è accaduto anche quest'anno siamo riusciti a reagire molto bene probabilmente per il nostro tipo di modello che è diverso da tutti gli altri come ben sai che lavora in stretta zona con l'agenzia immobiliare quindi questa cosa è sicuramente stata determinata insomma, quindi un ringraziamento lo vorrei fare pubblicamente a tutti loro perché hanno reagito immediatamente ad ogni tipo di indicazione che abbiamo dato e hanno saputo colmare anche dove non abbiamo dato indicazioni hanno saputo inventare come riuscire a ottenere questi grandi risultati insomma Bene è sicuramente un anno particolare che ha impattato come giustamente hai ricordato te un po' su tutta la filiera della casa a questo punto anche se con difficoltà ti chiedo qualche previsione per il 2024 sperando che non ci siano ulteriori rivoluzioni del mercato purtroppo per cause esogene dal nostro di mercato ma che ormai essendo una come dire un mercato globale quello in cui viviamo subiamo fortemente gli influssi di quello che accade nel resto del mondo però a bocce ferme ecco cosa ti aspetti per il prossimo anno? Allora sicuramente sono ottimista sono ottimista per due ragioni fondamentali poi chiaramente nessuno ha la sfera di cristallo per poter capire quello che potrà accadere e ormai siamo abituati negli ultimi 4-5 anni ad avere delle unità straordinarie di cui non sappiamo da dove arrivano tra emergenze sanitarie e tutto il resto ormai diciamo lo straordinario è diventato ordinario detto questo con le carte che abbiamo in mano oggi per interpretare il futuro io vedo sicuramente già un IRS che è sceso e un atteggiamento da parte delle banche centrali sicuramente di prudenza prudenza e quindi una volontà il prima possibile ad andare a ridurre quello che può essere il testo di sconto quindi sicuramente la direzione è quella diciamo di scendere cioè la salita del costo del denaro non è più al centro dell'attenzione speriamo che lo sia la discesa sicuramente le prospettive ripeto che immediatamente sta scendendo in modo importante sicuramente ci fa pensare che avremo un terreno di gioco un pochino più favorevole l'altro aspetto che rappresenta anche un rischio è quello del cliente finale ovviamente che queste informazioni da una parte speriamo che le acquisisca velocemente e che questo possa compensare quella titubanza che può avere diciamo così essere essere stata la caratteristica dominante nel 2023 dall'altra c'è una consapevolezza di assofazione cioè nel senso che i mutui al 4% al 3% si sono sempre fatti storicamente e non è un costo del denaro che è straordinario e una remunerazione del capitale ci deve essere quando c'è una raccolta in banca dunque insomma questi due aspetti cioè il fatto che il cliente finale si stia un po' abituando a questo costo del denaro che è la normalità e non è quello che abbiamo passato negli ultimi dieci anni dall'altra che comunque i segnali saranno quelli di una discesa di questo tipo di tasso mi fa pensare che i clienti siano sempre più diciamo così possano prendere questa decisione di fare un acquisto di sottoscrivere un mutuo con più sanità rispetto al passato dall'altra parte andiamo a vedere l'offerta che poi il sistema bancario ha chiuso delle semestrali dopo dei bilanci dopo dei bilanci che è chiuso straordinari anche i semestrali sono assolutamente insomma di grande soddisfazione per tutti i gruppi bancari stanno ritrovando redditività in quello che può essere il canale finance quindi nella parte finanziaria del mutuo quindi non solo nell'ambito assicurativo cosa che invece nel passato più vicino insomma ci interessava e dunque questa cosa sta stimolandoli a cercare di più la clientela tutto questo in un contesto di strategia che comunque sta portando a una desertificazione di quelle che può essere le filiali bancarie e quindi loro non hanno più la prossimità con i clienti finali hanno dei costi insostenibili per poter costruire dei professionisti specializzati nel settore mutuo e quindi per natura se vogliono fare impieghi devono muoversi verso le reti di mediazione di agenti che è un po' quello che abbiamo assistito meno dei dati di alcuni di alcuni diciamo così analisti che hanno avuto piacere di condividere ho visto che quest'anno dovrebbe essere detto in modo significativo la percentuale sul totale dei mutui intermediati da agenti mediatori rispetto allo scorso anno quindi probabilmente quel meno 30 di cui parliamo o meno 30 o meno 40 in cui di cui si parla è un dato che in realtà vedremo solo in alcune banche e non in tutte ovviamente più che sui mediatori mediamente e questa cosa quindi ci permette ancora di più di dire ok siamo più necessari di ieri per quanto riguarda l'offerta che il sistema bancario e quella che ci remunera sicuramente ci sono delle politiche anche diverse messe in campo da parte loro per intercettare più clienti dunque probabilmente i criteri assuntivi anche un pochino più diciamo così meno farmaceutici mettiamo così da un certo punto di vista ma una disponibilità al credito diversa e delle offerte che effettivamente cercano di rincorrere il cliente e questo insomma per noi è positivo se abbiamo un'offerta che spinge per accogliere è una domanda che dall'altra parte si tranquillizza si stabilizza e inizia ad avere un attimino più fiducia ma Carlo oltre sicuramente alla parte diciamo creditizia voi avete un sensore particolare anche per la parte diciamo immobiliare del del processo mutui fate parte di un gruppo immobiliare l'hai ricordato prima ma in questo caso ti risulta che c'è stata chiaramente una leggera flessione dei valori degli immobili e che magari qualche cliente ha aspettato di scavallare l'anno rispetto a questo 2023 per trovare un po' il tasso più favorevole da una parte ma soprattutto un valore immobiliare più adeguato più più basso dall'altra ma secondo me diciamo è più legata a un'attitubanza per la mancanza di certezze le continue informazioni che i tassi crescono che crescevano diciamo che ha determinato questa situazione gli effetti possono essere quelli che dici nel senso che si è rimandata a una scelta di un'esigenza e si è deciso di non soddisfarla nell'immediato ma di attendere magari un tempo un pochino più sereno mettiamo così per uscire quindi sicuramente qualcosa del genere c'è noi come rete immobiliare abbiamo un processo di produzione che è molto diciamo come il nostro è molto ferro è molto ricco di informazioni che condividiamo continuamente sicuramente c'è stata una flessione di quelle che può essere il numero delle compravendite però ripeto nel nostro mondo ti posso dire che anche solo come numero di compravendite siamo stati molto vicini a quelli dell'anno scorso poi per carità la rete è cresciuta gli uffici stiamo ancora aprendo siamo quasi 700 uffici quindi un incremento quindi una leggera caduta di quella che può essere la vendita pro capite per le nostre agenzie sicuramente c'è però complessivamente viviamo in un mondo dove comunque le attività sono svolte in modo professionale altamente professionale mi permetto di dire e questa cosa sta iniziando a determinare la differenza sul mercato come con i mutui diciamo riusciamo a portare a caso degli incarichi che magari in passato un concorrente non riesce a portare a casa a livello immobiliare ancora di più questo avviene e ci permette di vivere questa situazione con dei risultati con un mercato che fa meno 30 meno 40 di permetterci di fare gli stessi numeri banalmente senza fare grandissimi grandissimi stravolgimenti quindi il mercato in generale non lo so che cosa fa noi sappiamo cosa facciamo noi è sicuramente momento in cui c'è anche nell'immobiliare da fare un lavoro perché gli immobili non si vendono più da soli come i mutui non si vendono adesso si vuole un pochino più di io ho chiesto ai miei manager una rete ed è un po' la strategia su cui stiamo lavorando ma questo lo stiamo facendo da settembre del 2022 in modo assolutamente perentorio ho chiesto una rete muscolosa più che una rete numerosa il numero dei nostri collaboratori quest'anno adesso non ricordo bene con precisione quindi mi scuso per questo però insomma dovremmo avere probabilmente a fine anno un numero di collaboratori che è leggermente superiore ma di qualche unità rispetto a gennaio rispetto a gennaio perché abbiamo siamo andati a sostituire quei collaboratori più fragili che chiaramente quando il gioco si fa un pochino più duro quelli un pochino più fragili diventa più facile insomma perderli o perdersi inseguendo chimera o inseguendo strategie diverse e a noi interessa avere una rete muscolosa più numerosa perché comunque è un ciclo di mercato quindi non sarà solo il 2023 definiamolo complicato per modo di dire benissimo sarà probabilmente un 3-4 anni di questa musica e noi vogliamo essere nelle condizioni di suonarla bene insomma via e a proposito di rete per il 2024 vi siete posti degli obiettivi ben precisi o come ci hai detto insomma continuate a irrobustire quelli che ci sono per poi fare magari qualche aggiustamento allora a livello di obiettivi si divide in due attività quelli strategici aziendali sono di crescere chiaramente in funzione di quello che è la crescita della rete immobiliare perché come sapete abbiamo un rapporto collaboratori agenzie immobiliari che per noi va perseguito quindi sicuramente vogliamo abbiamo a progetto di inserire almeno una trentina una quarantina di collaboratori per il 2024 a livello di obiettivi a livello diciamo così di numeri li abbiamo condivisi con la nostra rete ogni nostro collaboratore ha fatto questo tipo di progetto del 2024 tutti e 300 i nostri collaboratori l'hanno fatto nel mese di novembre che è un momento in cui ci fermiamo e ci diamo tutti quelli che possono essere gli obiettivi non solo da un punto di vista economico professionale ma anche di vita personale voglio dire tutto quello che sta intorno alla vita di un uomo che mediamente ha trent'anni facendo questo tipo di attività deve programmare su futuro quindi in questo momento noi siamo molto attenti alle esigenze dei nostri collaboratori a cercare di metterli in contatto con dei formatori professionisti che li possano anche un pochino compensare su tutto quello che può essere la ruota della vita in sostanza quindi nel mese di novembre noi lo dedichiamo tutti gli anni ormai da dieci anni a questo tipo di attività e abbiamo pianificato in questi c'è uno spicchio chiaramente legato al lavoro e abbiamo pianificato quelli che sono con precisione banalmente le persone che vogliamo incontrare a febbraio rispetto a quelle che vogliamo incontrare a marzo gli incarichi che riteniamo di prendere in quel periodo e quindi abbiamo tutto pianificato per tutto l'anno e quindi diciamo possiamo concentrarci sulla chiusura dell'anno e a gennaio abbiamo di fronte delle carte da giocarci al netto di stravolgimenti chiaramente che possono esserci in tutti i momenti insomma certo senti ti volevo chiedere un'ultima cosa sempre sull'anno che è appena trascorso insomma quali sono stati gli eventi che lo hanno secondo te caratterizzato di più per voi come società allora sicuramente abbiamo lavorato molto dietro le quinte quest'anno perché come dicevamo prima avendo necessità di una rete muscolosa e un cambio di quella che la consulenza che andava offerto abbiamo dovuto rivedere integralmente tutto quello che è la nostra PMC Academy quindi tutta quella che è la strategia di formazione che scaricheremo nel 2024 purtroppo non sono cose che si occhi le dita al giorno dopo le muovi e dunque abbiamo dovuto progettarla prima capire cosa serviva cosa non serviva e ritornare diciamo a un po' anche quelle che sono delle origini tradizionali e passare da una parte di una formazione un pochino più magari digitale a una formazione un pochino più in aula creando una serie di eventi da circa un centinaio di persone tutti i mesi per fare in modo che tutti i mesi l'azienda incontri attraverso i suoi manager attraverso i migliori diciamo performanti collaboratori faremo una decina di questi incontri con tutti i collaboratori con tutti i tutor con tutti i direttori con tutti gli era manager e quindi abbiamo già un'agenda pianificata per tutto l'anno e con dei contenuti da inserire che sono magari leggermente diversi rispetto a quelli del passato e quindi abbiamo dovuto fare un'attività fortissima di progettazione e organizzazione anche perché poi ognuno deve sapere perfettamente cosa si deve fare perché quando si va in scena ai primi di gennaio è importante che tutto sia ben organizzato dall'altra parte sicuramente abbiamo lavorato molto sul tema della digitalizzazione non a livello formativo comunque anche lì abbiamo costruito abbiamo investito un po' di soldini in una piattaforma e learning che ci permette di comunque rendere determinati contenuti sempre disponibili non fisicamente in queste giornate ma almeno insomma poter consigliare i nostri collaboratori in tutte le attività della nostra professione abbiamo investito fortemente su quelli che sono i processi quindi la firma digitale sui contratti stiamo digitalizzando tutto quello che è il tema della parte da componente assicurativa che è sempre un aspetto per noi molto importante abbiamo un'azienda un broker che segue direttamente più mutui casa e quindi tutto il processo di digitalizzazione di Dorotea oltre che abbiamo trovato sicuramente un terreno molto più fertile nelle compagnie assicurative per arrivare direttamente alle firme delle polizie notipi rispetto alle banche sono magari un pochino più un pochino più timide anche se si sta muovendo anche loro devo dire quindi diciamo tutto il tema della digitalizzazione e della business intelligence della condivisione dei dati perché poi fornendo ai collaboratori una serie di informazioni di dati puntuali nei punti giusti sanno perfettamente orientarsi come su un navigatore satellitare per trovare quella che è la strada migliore per ottenere il business senza dispersione di attività e quindi cercando efficienza quindi stiamo sostanzialmente cercando di utilizzare la tecnologia per efficientare tutti i nostri processi essendo un anno un po' particolare era già pianificato chiaramente a un po' di tempo è un percorso che ha iniziato nel 2022 però sostanzialmente queste sono le due principali drive che su cui abbiamo lavorato forte e che stiamo riuscendo a rilasciare per gennaio in sostanza bene allora io ti ringrazio ti faccio anche gli auguri di Natale visto che ormai manca veramente poco e ti do come sempre appuntamento al prossimo anno per verificare un po' quello che ci siamo detti oggi perfetto allora grazie a tutti e grazie tanti auguri anche a tutti perché poi anche per tutti a Natale sarà un anno nuovo tanti auguri a tutti grazie grazie a te